Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video Oggi voglio portarvi una storia che mi avete richiesto in parecchi e che io non conoscevo affatto Non vi dirò, come forse impone un po' la logica, quale sia stata la fine di Eva Sakonago nell'immediato Vi basti sapere che lei è la protagonista del caso di oggi Piuttosto voglio raccontarvi questo caso nel modo più ordinato possibile Infatti che vi sto per andare a raccontare sono tutti stati estrapolati da un processo che è già avvenuto Quindi spesso menzionerò delle frasi che sono state dette durante questo processo E piuttosto che farvi una narrazione avvincente, preferisco andare con ordine per non farvi perdere neanche il minimo passaggio di questa storia Eva Sakonago, come già vi ho detto, è la protagonista del nostro caso Nasce il 4 settembre del 1983, da Giovanna e Roberto E cresce a Busto Arsizio, in provincia di Varese Ha un aspetto tutto sommato mascolino, porta i capelli rasati oppure corti Sono ricci e biondi Ha un sorriso magnifico, accompagnato da dei grandi occhi azzurri Non è molto alta e da una corporatura robusta È una ragazzina molto solare Eva Negli studi si applica giusto e necessario perché è un po' svogliata In adolescenza Eva conduce una vita normale come tante altre ragazzine delle scuole medie della sua età La sua giornata ovviamente gira attorno alla scuola e ai compiti Quando torna a casa li fa sempre insieme a mamma Giovanna Che le sta vicino e tenta di supportarla negli studi Prima il dovere poi il piacere, dice mamma Giovanna ad Eva Lei, come già vi ho detto, non ama molto studiare Ma sui libri ci sta il giusto per renderla soddisfatta Poi ecco che esce Incontra delle amiche Vive le sue prime cotte Parla di ragazzi con le sue compagne di classe Eva però i suoi amici non li frequenta tutti in posti casuali Il loro ritrovo è l'oratorio della chiesa di Sant'Edoardo Gli amici di Eva non frequentano più di tanto l'oratorio durante la settimana Perché c'è scuola, devono stare a casa, devono studiare Mentre invece Eva all'oratorio ci va molto spesso Anche durante la settimana appena finisce i compiti E riesce ad uscire di casa La ragazza va sempre lì all'oratorio L'oratorio di Sant'Edoardo in realtà è un luogo di aggregazione per i giovani Ed è suddiviso in sezioni La sezione che Eva e i suoi amici sono soliti frequentare è la sezione primavera Inizia fin da piccola Eva a frequentare la parrocchia Ama quel posto e ama l'atmosfera che c'è in quel posto E infatti con gli anni che passano diventa addirittura un'animatrice Fin da piccola Eva è portata ad aiutare gli altri Più cresce più mostra empatia verso il prossimo Ed è così che alla fine la sua vita si suddivide tra studio e oratorio Nel 1997 Eva e un suo compagno di scuola di nome Alessandro Iniziano a stare assieme Purtroppo però il loro amore non è destinato a durare Dopo appena due mesi Eva dice ad Alessandro Che sarebbe meglio smetterla di vedersi da fidanzati Alessandro chiede spiegazioni, prova a capire Ma non ottiene mai una vera risposta da Eva Se tra loro va tutto bene perché lo ha lasciato? Ma sì, queste sono le storielle dei giovani Quelle che durano poco ma sono intense Se la verità fosse questa allora forse questo caso non esisterebbe neanche La verità qui è dura da capire, è dura da digerire, è dura da sopportare Ma la verità è che Eva verso la fine delle scuole medie inizia ad essere sempre meno presente Le sue amiche continuano a parlare di ragazzi, lei però non le ascolta più Insomma, è chiaro, qualcosa in lei è cambiato Emerge infatti in Eva un'enorme crisi esistenziale È continuamente alla ricerca della sua strada, cerca di capirsi Pensa addirittura di prendere i voti, di farsi suora Ma poi si rende conto che quella in realtà non è la sua strada I suoi genitori ovviamente sono sollevati da questa notizia Eva invece questa presa di coscienza la vede come un fallimento Ha cercato la sua strada attraverso un percorso spirituale e non ci è riuscita Non riesce a capire chi sia né tanto meno cosa voglia dalla vita È confusa, inquieta, pare che stia girovagando in cerca della sua essenza senza però mai riuscire a trovarla Eva comunque continua a partecipare attivamente e assiduamente alle iniziative del centro primavera della sua parrocchia Ossia la parrocchia di Sant'Edoardo ed è proprio qui che Eva farà un incontro che le sconvolgerà la vita Nel 1998 incontra suor Mariangela Faré a 38 anni e appartiene alla congregazione delle figlie di Maria ausiliatrice Viene mandata all'oratorio come educatrice responsabile del centro primavera Ed Eva in questo periodo ha 15 anni Questa suora, c'è da dirlo, viene apprezzata fin da subito, porta una ventata d'aria fresca È una donna che ama intrattenere i ragazzi che visitano la parrocchia Canta, suona la chitarra, è solare, è vivace Però Don Giovanni Mariano, il parroco di Sant'Edoardo in quel periodo In suor Mariangela vede dei comportamenti un po' troppo disinvolti nei confronti delle ragazze Si danno del tu, si spintonano e nonostante lo facciano scherzosamente per il parroco Quello è un atteggiamento assolutamente inadeguato Col passare del tempo inoltre la presenza della suora inizia a infastidire anche i giovani Che, per un motivo o per un altro, se la ritrovano sempre in mezzo Non possono stare da soli, non possono chiacchierare, non possono guardare un film all'oratorio da soli Alla fine, suor Mariangela spunta sempre Come vi ho già detto, Eva è una presenza importante all'oratorio Se i suoi amici si limitano a frequentarlo nel weekend, lei ci va tutti i giorni dopo aver finito i compiti Fino alle 6, ossia fino alla chiusura dell'oratorio Come ovvio che sia, Eva viene rapita da questa suora così tanto carismatica Ben presto si avvicina a lei e le due instaurano un ottimo rapporto Le consorelle notano però che Eva, spesso e volentieri, si ferma all'oratorio anche dopo l'orario di chiusura Quindi sta lì anche oltre le 18 Lì per lì però pensano che Eva sia semplicemente molto legata alla suora Quindi, di conseguenza, non ci danno molto peso Capita spesso, peraltro, che i giovani chiedono aiuto se si trovano in qualche situazione difficile Perché tutti considerano l'oratorio come un luogo sicuro Un luogo dove è possibile esprimere le proprie debolezze, le proprie paure senza problemi Giovanna, la madre di Eva, un giorno conosce suor Mariangela E la prima impressione non è proprio delle migliori Non so se Giovanna abbia fatto bene o male nella sua vita Ma è chiaro e lo si evince del processo che sia una madre fortemente gelosa A tratti anche ossessiva, lo ammette lei stessa Alt però, perché qui Eva ha ancora 15 anni Quindi, ossessivo o meno, a mio parere, la sua apprensione non è immotivata In quanto Eva non abita nel paesello composto da 1500 abitanti Dove tutti si salutano, tutti si conoscono Ma abita a busto arsizio E arriva una sera in cui Giovanna si rende conto che la figlia non è in casa Sono le 18.15 e ancora di Eva non c'è traccia Però l'oratorio dovrebbe chiudere alle 18 Giovanna sbuffa, è spazientita Ma aspetta Arrivano le 18.30, poi le 18.45, poi arrivano le 19 Quindi Giovanna, la madre di Eva, decide di mettersi in macchina E di fare la stessa strada che la figlia di solito percorre per tornare a casa Sperando di incruciarla durante il tragitto Ciò purtroppo non avviene Così Giovanna con sicurezza si reca all'oratorio E in effetti vede che le luci sono ancora accese Entra e vede suor Mariangela da sola con Eva Le due stanno solo parlando Ma Giovanna quando vede quella situazione Trova che ci sia qualcosa che non vada Ha una brutta sensazione ma è anche fortemente preoccupata Perché sua figlia doveva rientrare in casa un'ora prima Quindi quel sesto senso che le fa pensare che questa situazione sia un po' ambigua Viene totalmente annebbiato Dall'ira, dalla rabbia Giovanna alza la voce Inveisce, giustamente non contro sua figlia Ma contro la suora Le chiede Scusi Eva, non dovevate mandarla a casa un'ora fa? La ragazza ha solo 15 anni Io mi preoccupo Ovviamente in tutto ciò Eva è fortemente imbarazzata Suor Mariangela dal canto suo non dice nulla per difendersi Quindi Giovanna si prende la figlia e se la riporta a casa A questo punto però nella mente di Giovanna scatta qualcosa È vero, Eva e suor Mariangela non stavano facendo assolutamente nulla di male Giovanna però non è tranquilla Quindi ne parla con qualche amica stretta E queste amiche chiedono a Giovanna se per caso sua figlia è solita tenere un diario segreto Le ragazzine in quei diari confidano tutto Giovanna non sa se Eva è solita scrivere i suoi pensieri da qualche parte Non l'ha mai vista fare una cosa del genere Quindi non sa in effetti se sua figlia abbia o meno un diario Il fatto che non vada troppo bene a scuola non la fa ben sperare Ma in realtà Giovanna tenendola un po' d'occhio scopre davvero i suoi diari segreti Giovanna quindi quando Eva non è a casa prende l'ultimo diario che la figlia sta scrivendo Per l'esattezza è una smemoranda E dentro trova una serie di cuoricini, di scritte, di biglietti, di cartoline Il problema è che quel diario pare non sia Eva a scriverlo Bensì suor Mariangela Giovanna a questo punto può vedere chiaramente come suor Mariangela si esprime nei confronti di sua figlia È scritto tutto lì, nero su bianco Sor Mariangela è molto affettuosa con Eva Non la chiama neanche con il suo nome ma con un nomignolo Ossia Yellow in italiano giallo Il pubblico ministero durante il processo legge una parte del diario di Eva Che a mio parere la dice lunga sulla situazione E ve lo leggo immediatamente 6 dicembre 1998 Ore 23.30 Carissima Yellow Questa sera l'abbiamo scampata bella Tua mamma era davvero arrabbiata Avremmo dovuto essere un po' più attente al tempo che corre sempre troppo veloce quando si è in piacevole compagnia Scusami tanto La PM in aula continua pronunciando queste esatte parole Abdica già totalmente il ruolo di educatrice Qui c'è complicità Che dire Concordo Giovanna la madre di Eva però quando scopre questo diario non dice nulla alla figlia Piuttosto la spia controlla continuamente il suo diario Quando nota che ci sono delle pagine con contenuti a dir poco inopportuni Le fotocopia La PM al processo chiede a Giovanna in che modo suor Maria Angela chiama Eva nei diari La donna sostiene che inizialmente la chiamava o con il suo nome ossia Eva oppure con un nomignolo ossia Yellow Però andando avanti è iniziata anche a chiamarla amore, tesoro mio, tesoro della mamma, amore della mamma, figlia mia I genitori a questo punto si rendono conto che la situazione sta sfuggendo di mano Pare che la relazione con loro figli e questa suora nel tempo si stia consolidando Ed è ovvio che questa situazione non vada assolutamente bene I genitori di Eva a questo punto hanno un plico di fotocopie del diario di loro figlia Che però in realtà scrive la suora Ma decidono di non affrontare immediatamente suor Maria Angela Bensì si rivolgono a una sua consorella, suor Costanza Macchi Vanno nel suo ufficio, raccontano la situazione e gli fanno vedere le fotocopie del diario Per dimostrare che effettivamente la calligrafia corrisponde a quella di suor Maria Angela Anche suor Costanza ammette che quelle lettere scritte su quel diario hanno un contenuto a dir poco affettuoso Sono scritti in una formula a dir poco inopportuna Le consorelle ben presto vengono a scoprire della storia E rimangono basite nel leggere quelle fotocopie Quindi poco dopo Giovanna, la madre di Eva, chiede di avere un colloquio privato con suor Maria Angela Faré Suor Costanza quindi la accompagna in una stanza in cui per l'appunto è presente solo suor Maria Angela Chiude la porta e non sente esattamente cosa si dicono Perché di certo non sta lì a origliare Ma mentre si allontana per suor Costanza È chiaro che le due stiano discutendo in modo alquanto animato I genitori decidono di non dire nulla a loro figlia Perché in pratica l'hanno spiata E hanno fotocopiato delle pagine del suo diario segreto Insomma preferiscono tacere Però suor Maria Angela appena ne ha l'opportunità Va di corsa da Eva e le racconta tutto Questo avviene perché suor Maria Angela è da tempo che ormai con Eva Parla male di sua madre Giovanna Nei diari che scrive per Eva Suor Maria Angela si riferisce alla madre di Eva Giovanna Come la vipera Le scrive in continuazione Il male che ti sta facendo tua mamma non è ancora finito Inoltre c'è un passaggio del diario Che a me ha lasciato davvero Basita Ve lo giuro basita Giovanna un giorno decide di riportare sua figlia per la prima volta da un ginecologo Il ginecologo Calcaterra Che le fa una visita e un'ecografia In un passaggio degli scritti di quel diario Di quelle lettere C'è suor Maria Angela Che chiede ad Eva Di portarle l'ecografia delle sue ovarie Giovanna inoltre Legge anche una parte del diario In cui suor Maria Angela parla di baci Anche baci sulla bocca Per di più Ormai Eva I regali che suor Maria Angela le fa Li lascia esposti in camera sua Si può dire che Quella camera da letto Gliel'ha personalizzata suor Maria Angela Siamo sempre nel 1998 E la camera di Eva è ricoperta di fiori Filellini Pupazzi Didol che si baciano Non so se sapete che cosa siano i didol Erano dei pupazzetti che andavano molto di moda Anche quando ero piccola In caso vi lascio una foto Poi ancora ci sono bigliettini Altri fiorellini Giovanna decide comunque di proseguire con la stessa tattica Quindi non dice assolutamente nulla d'Eva Anche perché Eva a sua volta non ha detto nulla delle fotocopie del diario Giovanna non sa che Eva è al corrente di tutto E' a questo punto che Giovanna e Roberto I genitori di Eva Decidono di andare a parlare direttamente con suor Maria Angela Vanno anche più volte da lei Cercano di spiegarle Che non è assolutamente corretto avere un comportamento simile Solo nei confronti di una ragazzina che frequenta l'oratorio Il punto è che i genitori di Eva Non trovano un riscontro O meglio Suor Maria Angela è una gran brava manipolatrice Tira sempre fuori la fede e la religione Per far capire ai genitori di Eva Che lei in realtà non fa nulla di strano Vuole bene ad Eva Come vuole bene a qualsiasi creatura di Dio Inoltre c'è un altro bel problema Perché Eva è schiva Lo è dalla sera in cui sua madre è piombata all'oratorio In vendo contro suor Maria Angela Trattandola male e mancandola di rispetto Perché dovete sapere che nel frattempo Suor Maria Angela sta manipolando Eva ben bene Piano piano giorno dopo giorno la sta convincendo del fatto che in realtà i suoi genitori non le vogliono bene Bel sì le vogliono solo fare del male Come già vi ho detto Eva ahimè con i giorni che passano a questa versione ci crede sempre di più Anche perché sua madre può anche provare a parlare con suor Maria Angela quando Eva non è presente Col fine di non farglielo sapere per evitare di metterla in imbarazzo Ma alla fine suor Maria Angela le va a riferire tutto appena possibile Quindi tutti questi segreti in realtà sono inesistenti Eva dal canto suo non dimostra di essere a conoscenza della verità Non inveisce contro i genitori Non li affronta Non dice nulla Però si allontana Diventa sempre più schiva di poche parole Eva cambia Intanto le consorelle decidono di fare la cosa più giusta Ossia denunciano tutto l'accaduto alla madre superiore Quindi i genitori di Eva vengono convocati a Varese dalla superiore Dove spiegano e raccontano tutto Però pare che queste suore in realtà non prendano seriamente la gravità della situazione Insomma si sta parlando di comportamenti totalmente inappropriati Da parte di un soggetto ben preciso nei confronti di un altro soggetto ben preciso Il caso è alquanto semplice da risolvere Ma nonostante questo Neanche la superiore appare sia così tanto stupita del comportamento di suor Maria Angela L'unica voce fuori dal coro resta Don Giovanni Mariano Il prete della parrocchia di Sant'Edoardo I genitori di Eva, Giovanni e Roberto non sanno più cosa fare Non sanno dove sbattere la testa, non sanno che diavolo di pesci pigliare Quindi a questo punto Chiedono di parlare con il prete della parrocchia Il quale finalmente per la prima volta si dimostra sbigottito rispetto a questa situazione Così dice i genitori di Eva di fornirgli tutto il materiale possibile Così da consentirgli di recarsi in questura Per denunciare lui stesso, suor Maria Angela A questo punto sono i genitori di Eva che si rifiutano Giovanni e Roberto sanno che Eva ad una situazione del genere avrebbe reagito malissimo Quindi per evitare di farla ulteriormente allontanare Evitano di dare qualsiasi materiale utile al prete Chiedono piuttosto di mettersi in contatto con la superiore Per metterla al corrente della situazione ma soprattutto per comunicarle il suo punto di vista Insomma i genitori di Eva pensano che magari la superiore lo avrebbe ascoltato Così Don Giovanni chiama la superiore e dice chiaramente che la presenza di suor Maria Angela Farè Non può continuare Suor Maria Angela a questo punto viene convocata dalla superiore Iniziano a parlare alle nove della mattina e finiscono alle tre del pomeriggio E in questo lasso di tempo la suora convince la superiore del fatto che tra lei ed Eva non c'è nessun rapporto in particolare Le vuole bene perché lei è un'educatrice spirituale Inoltre tutti i ragazzi che frequentano l'oratorio sono uguali Non ha delle preferenze Anche la superiore alla fine si convince che non c'è nulla di strano nel rapporto tra Eva e suor Maria Angela Eva a questo punto inizia a sentirsi in colpa È furiosa e quindi continua sempre di più ad allontanarsi dai suoi genitori Però il prete Don Giovanni riesce ad ottenere il trasferimento della suora a Catania Ovviamente questa situazione fa soffrire terribilmente Eva Che come immaginerete è legatissima a suor Maria Angela Dal canto suo la suora da Catania non si arrende minimamente Quindi continua a tenere un rapporto stretto con Eva La donna manda delle lettere a una sua ex con sorella Suor Vittoria E all'interno delle lettere indirizzate a lei ci sono altre lettere che suor Vittoria a sua volta deve consegnare ad Eva Suor Vittoria dal processo sembra una non molto inquadrata Nel senso che quando le chiedono di Eva a Saccorago lei risponde Ma io non ci sono mai stata a Saccorago Sembra finga di non capire Secondo me però capisce E come se capisce Anche se a suo dire si è limitata a consegnare due bigliettini No, non è così Suor Vittoria fa da postina, fa da tramite Consegna ad Eva cartoline, bigliettini, lettere Poi risponde alla sua lettera inserendo anche le varie risposte ai bigliettini di Eva Inoltre suor Maria Angela a quanto pare viene mandata a Catania Per concludere gli studi e conseguire il diploma Peccato che gli esami si tengano a Milano e quando suor Maria Angela deve partire da Catania Non è mai controllata, parte sempre da sola Ecco perché nell'ottobre del 1998 la suora e Eva riescono a rivedersi a Milano Questo lo dimostra un biglietto del treno che suor Maria Angela spedisce tramite suor Vittoria per Eva Quel biglietto del treno è pieno di frasi melense e poi c'è anche una lettera Una lettera in cui la suora scrive ad Eva che non fa che pensare a ciò che c'è stato tra di loro Parla di mani intrecciate, di baci Insomma è chiaro cosa abbiano fatto le due quando si sono riviste Nel frattempo il rapporto tra Eva e sua madre va completamente in crisi Il tempo scorre, arriva il 14 febbraio del 1999 E suor Maria Angela scrive un'altra lettera ad Eva che dice Scusami ma ho tanta nostalgia di te Chiudi gli occhi Eva, vorrei salutarti con piccoli B B vuol dire baci Tanti B sugli occhi, sulle guance e tanti B piccoli sulla fronte Come nel viaggio di ritorno dalla montagna, ti ricordi e tu furbetta facevi finta di dormire Ti amo anche per queste piccole tenerezze che mi fanno sentire male La PM al processo dice esattamente queste parole Sor Maria Angela faree da una parte esplode, è incontenibile nelle sue manifestazioni d'amore Però si rende anche conto che quello è un amore illegittimo per il ruolo che ha E quindi che fa? Inizia a dire a Eva Ma no, ma io sono la tua mamma spirituale, io ti voglio bene, niente di più Quindi suor Maria Angela spaccia come manifestazioni d'amore materno Atti di natura intima Eva nel frattempo cresce, è una persona allegra, solare, sorridente Con una grande voglia di aiutare il prossimo All'apparenza ha un carattere molto forte e determinato Però vive dei momenti di profonda tristezza Quando delle consorelle provano a chiedere ad Eva il motivo di questi suoi sbalzi d'umore La ragazza risponde I miei genitori non mi lasciano libera Ovviamente le consorelle le dicono che è normale, a 16 anni non può fare quello che le va Deve essere giudiziosa e dare ascolto ai suoi genitori Con sua mamma ormai Eva non ha un buon rapporto Si ribella in continuazione e la descrive come una donna soffocante Spesso Eva è a dieta perché è in sovrappeso Quindi sua madre la sprona a fare movimento Ma per Eva questa privazione di cibo che è la dieta Non la sopporta, soffre tantissimo perché è una ragazza che ama mangiare E spesso tende anche a scaricare ansie e frustrazioni sul cibo Col cibo Eva non ha un buon rapporto Ha dei problemi alimentari fin da quando è piccola Inizialmente Eva è una ragazza che ama semplicemente mangiare Quindi ingratza perché mangia tanto Però dopo aver conosciuto suor Mariangela Fare I suoi problemi iniziano ad emergere con prepotenza Perché Eva diventa bulla Il rapporto con la madre negli anni in cui la suora non è a busto arsizio È rimediabilmente compromesso Eva è arrabbiata con sua madre Giovanna Perché sa che è colpa sua se la suora è stata allontanata La madre di Eva soffre molto Tanto da rivolgersi ad uno psicologo Per riuscire a gestire meglio la situazione Intanto suor Mariangela Fare Finisce i suoi studi a Catania e torna al nord Diventando a Pavia la direttrice del CHOFS Ossia del centro formazione professionale femminile Delle scuole salesiane Ovviamente i contatti tra Eva e la suora si ristabiliscono E rincominciano a sentirsi Ed Eva nel frattempo è diventata maggiorenne Si è diplomata Così decide di andare a lavorare a Pavia Come segretaria nella stessa scuola In cui insegna suor Mariangela al CHOFS In questo periodo ovviamente i bigliettini Che già erano presenti in precedenza Continuano ad esserci Ed ecco che nel gennaio 2005 Ne spunta un altro Che ahimè ormai lascia poco spazio all'immaginazione In quanto suor Mariangela scrive ad Eva Ti amo Facciamo cose nelle forme più belle ed intime Sogno di stare nel lettone con te Di accarezzarti tanto dentro Arrivando al massimo piacere Con le carezze Purtroppo è chiaro che a questo punto Tra le due c'è una relazione intima E la situazione continua a procedere In questo modo fino al 2006 Tutti questi biglietti è chiaro Si riferiscono a dei rapporti intimi Ma non è finita qui perché in camera di Eva Vengono trovati più filmati In cui lei e la suora stanno insieme intimamente Al processo descrivono in modo alquanto minuzioso Il contenuto di un video Ma io ve lo risparmio Prima di tutto perché YouTube potrebbe emozionarsi E non poco In secondo luogo perché in realtà Non c'è nulla di strano nel rapporto intimo in sé Il problema qui è che Eva ora ha 19 anni Mentre la suora ha superato i 40 Ma tra le due il rapporto è consensiente? La situazione in questo caso è un po' complicata In quanto Eva è manipolata e soggiogata da anni Da sua Mariangela Di conseguenza ne è psicologicamente dipendente Però guardando il video in cui le due hanno per l'appunto questo rapporto Si vede che sono in armonia Nessuna delle due sta costringendo l'altra In modo evidente a fare qualcosa che non vuole Insomma pare che il consenso qui ci sia E come Gli anni continuano a passare A questo punto ormai il rapporto tra Eva e i suoi genitori Pare essersi rinsaldato È più equilibrato Ormai Eva è grande Ha 24 anni Ed è a questo punto che decide di andare a vivere da sola Si trasferisce nella nuova casa con il suo cagnolino Coco E tutto sommato la sua vita pare non essere cambiata molto Prima la sua giornata si divideva tra studi e parrocchia Ora la sua giornata si divide tra lavoro e parrocchia Eva infatti non smette mai di frequentarla Continua ad essere una presenza fissa Sta all'oratorio e si prende cura dei ragazzini Giovanna a questo punto è di nuovo una presenza fissa Va spesso a casa sua per aiutarla con le faccine domestiche Si prende cura del cagnolino Il primo settembre del 2004 arriva Don Alessandro Bonura Che diventa il responsabile dell'oratorio Di conseguenza Eva lo conosce e col tempo costruisce con lui il rapporto davvero molto molto importante Dal 2004 al 2006-2007 Don Alessandro ed Eva hanno un rapporto normale Parlano di tanto in tanto Eva si lascia andare a qualche confidenza Ma non si lascia mai andare troppo e non esagera mai Si contiene Mentre gli anni passano Eva stringe un rapporto sempre più saldo con Don Alessandro Quindi inizia davvero a confidarsi con lui Eva racconta Don Alessandro della sua vita Gli parla della sua infanzia e poi della sua adolescenza Gli confida di aver avuto dei dubbi sulla sua esistenza In quanto non riusciva a capire chi fosse veramente e che cosa avrebbe voluto ottenere dalla vita Eva quindi dice al don di aver vissuto questo periodo in cui era particolarmente sfiduciata Però non ha mai smesso di frequentare l'oratorio E' sempre stata una presenza costante nella sua vita alla chiesa Poi Eva racconta a Don Alessandro che un giorno tutto si è capovolto Tutto è migliorato perché ha incontrato Suor Mariangela Farè Eva racconta in qualche modo a Don Alessandro il rapporto che c'è tra lei e la Suora E principalmente la dipinge in due modi Prima di tutto la vede come davvero una sua madre spirituale E in secondo luogo la vede come una vera e propria ancora di salvezza Eva per un periodo della sua vita si è aggrappata con le unghie e con i denti alla figura di Suor Mariangela Poi Eva racconta anche a Don Alessandro di qualche bacio sulla bocca Insomma anche Don Alessandro ammette che Suor Mariangela nutriva delle attenzioni più particolari su Eva rispetto a tutte le altre ragazze E' probabile che in Eva si muova e prenda forma nel tempo un sentimento ambivalente Da una parte c'è la riconoscenza per ciò che ha imparato grazie alla Suora Ma crescendo inevitabilmente Eva si era resa conto che c'era qualcosa che non andava nel loro rapporto Non era normale insomma che una Suora si comportasse in un modo del genere Inoltre ora c'è un nuovo gruppo all'oratorio con a capo Don Alessandro Che per l'appunto è il nuovo educatore Così si forma un nuovo gruppo di ragazzi In quanto c'è un educatore che a sua volta ha dei collaboratori E tra questi collaboratori c'è anche Eva Quindi di solito una volta a settimana la riunione al posto di farla in parrocchia La fanno a casa di Eva Che per l'appunto ormai vive da sola Così ecco che Eva si ritrova a contatto con nuove persone Che col tempo inevitabilmente diventano degli amici per lei La ragazza li accoglie in casa, organizzano sempre le attività dell'oratorio Ma spesso ne approfittano per passare una serata tutti insieme Per cenare tutti insieme Insomma Eva ha un altro gruppo di amici molto stretto Inoltre Don Alessandro ed Eva iniziano anche a incontrarsi privatamente Per alcuni pranzi o alcune cene Specialmente il venerdì sera Eva e Don Alessandro lo chiamano il rito del venerdì sera Che succede il venerdì sera? Ebbene il Don va sempre a cenare da Eva Poi guardano un po' insieme la televisione E infine il Don rimane a dormire a casa di Eva Ovviamente la situazione vista così si presenta come fortemente inopportuna Ma questo rito del venerdì ha un motivo molto più profondo di quanto si pensi Inizialmente dobbiamo dirlo Anche in questa situazione Don Alessandro appare un po' ambiguo Anche perché tra lui e Eva avvengono diversi scambi Sia via fax che tramite messaggi telefonici Eva in questi messaggi si rivolge al Don in modo affettuoso Chiamandola addirittura pinguino A questo punto emerge chiaramente un tratto caratteriale di Eva Quando si affeziona tanto a qualcuno Si esprime nei suoi confronti in modo davvero molto dolce e tenero A questo punto sua Maria Angela non vede assolutamente bene la situazione Guarda con ostilità Don Alessandro Lui ha iniziato a frequentare Eva L'ha fatta affezionare a sé E in questo modo ha preso il suo posto Quindi quando la suora sente Eva Prova in ogni modo a farla sentire in colpa E ahimè ci riesce Suor Maria Angela le dice che da quando è amica con Don Alessandro La lascia sola, non le dà più attenzioni Ora non ha più tempo per lei Quindi lei non conta più niente Inoltre spesso e volentieri Suor Maria Angela rinfaccia a Eva Ciò che ha vissuto di negativo in passato La fa di nuovo sentire in colpa per quando ad esempio Da Bustor a Sizzera l'hanno mandata a Catania La suora dice a Eva Con tutto quello che ho fatto per te Tu mi hai rovinato la vita ed ora mi lasci così? Le due ormai si scrivono via email E ce n'è una in particolare che mette i brividi Infatti il 5 aprile del 2009 Suor Maria Angela scrive delle mail davvero deliranti E temo che non siano neanche le uniche Ripete con fuoco le stesse parole Le ripete all'infinito Scrive sempre la stessa parola o frase Ripetuta per un sacco di volte La suora scrive Ti sei comportata come Giovanna Tua madre O meglio Gioculo Sei falsa Falsa Suor Maria Angela lo scrive per ben 122 volte 28 volte scrive Come fai ad avere il cuore così duro? Di pietra 57 volte scrive la stessa frase in stampatello maiuscolo Sei solo capace di cercarmi quando hai bisogno Vero? 102 volte le scrive Sempre in stampatello maiuscolo Mi hai distrutto il cervello Rovinato la vita Dopo questa mail a dir poco scioccante Torniamo un attimo indietro Vi ricordate quando vi ho detto che Eva E il dono Alessandro Hanno un rito chiamato Il rito del venerdì? Questo rito comporta il fatto che Alessandro Stia a dormire da Eva E ben presto emerge che questa situazione Nasce da un'esigenza ben precisa Eva chiede a dono Alessandro di rimanere con lei Almeno il venerdì notte Perché ha paura O meglio Non riesce a dormire tranquilla Le altre notti Diceva per lei Sono sempre più agitate Riceve in continuazione chiamate sul telefono Non riesce a passare una notte in tranquillità E a questo punto possiamo dirlo chiaramente Suor Mariangela la sta perseguitando Eva avrebbe dovuto mandarla a stendere Cambiare numero e allontanarsi da lei? Ma certamente Ma dobbiamo ricordarci che Eva è stata plagiata da quella donna Fin dalla giovane età Quindi Tra Eva e don Alessandro effettivamente c'è un rapporto stretto Ma non c'è nulla di ambiguo Quella che invece si sta rivelando realmente per quella che è E suor Mariangela Faré Perché a questo punto sta diventando ossessiva Problematica Invadente Come se non bastasse Suor Mariangela chiama Eva quotidianamente Capita spesso di vedere Eva al telefono E ogni volta dice a don Alessandro Che dall'albero capo del telefono C'è la sister Un nome in codice per Riferirsi a suor Mariangela Queste telefonate peraltro sono anche alquanto lunghe Talvolta sono tranquille Altre volte sono parecchio animate Quindi Tra le due ci sono dei chiari conflitti Ormai Eva è cresciuta Immagino che dentro di lei regni un'enorme confusione Proprio a causa di questa situazione Che si Protrae per anni Inoltre Suor Mariangela Faré ha le chiavi di casa di Eva E c'è da sottolineare che le suori non possono uscire a dormire quando gli va Al limite devono chiedere un permesso alla superiora E comunque l'uscita deve essere ben motivata Invece suor Mariangela spesso si presenta da Eva E ovviamente in un primo momento per Eva non c'è problema Ma a quel tempo la situazione inizia a diventare alquanto inquietante Ad esempio Eva spesso è lì che se la dorme beata in camera sua Sente un rumore Si sveglia Apre gli occhi Che si ritrova la suora lì davanti al letto E questa cosa avviene soprattutto Il venerdì sera e nei weekend Ecco perché Eva ad un certo punto inizia a chiedere a Don Alessandro Di rimanere lì proprio di venerdì Ha paura che suor Mariangela si presenti lì Anche perché ha provato a richiederle indietro le chiavi Ma la suora si è rifiutata di ridargliele Quindi ad un certo punto Eva le visite della suora Non le gradisce più E questo lo dimostrano di nuovo i suoi diari Eva scrive A questo punto userò una parola molto forte è stata utilizzata anche nel processo Questa è una mia idea voi potete tranquillamente non essere d'accordo con me Ma per quanto mi riguarda è in questo caso che emerge in modo lampante la prigionia di Eva È in trappola E ogni volta che cerca di fuggire ahimè subisce delle vere e proprie violenze fisiche Giovanna la madre di Eva vede chiaramente sua figlia con diversi ematomi sia sulle gambe che sulle braccia Ma Eva ha sempre una scusa pronta per minimizzare Dice che spesso mentre gioca con i bambini e ragazzi dell'oratorio Prende dei colpi senza rendersene troppo conto Ecco perché ha quegli ematomi Una sua amica di nome Paola sostiene che spesso e volentieri Eva Arriva a usare il collare Ma anche in quel caso racconta una bugia che si ripete in continuazione Eva infatti dice che porta il collare a causa di frequenti tamponamenti automobilistici Peccato che la sua macchina sia sempre perfetta e non abbia mai neanche un graffietto A questo punto sorge una domanda Possibile che Don Alessandro Bonura non abbia tentato in qualche modo di convincere Eva a denunciare E non alla consorelle o alla madre superiore Ma ai carabinieri Il Don lo ammette Ci ha provato nel 2009 a convincere Eva a denunciare sua Mariangela Riesce a portarla in questura Eva parla con il sovrintendente capo della polizia Ma racconta in modo informale ciò che subisce da sua Mariangela Però sostiene di non voler procedere con una denuncia formale Nei confronti della suora perché nonostante tutto Eva pensa che una denuncia del genere le avrebbe totalmente rovinato la vita A questo punto la polizia si ricada alla superiore di sua Mariangela a fare Ovviamente la donna dice di non saperne assolutamente nulla di questa storia E una volta che la polizia se ne va l'ispettrice giustamente convoca sua Mariangela a fare Anche perché quelle che le sono state mosse sono accuse alquanto pesanti Suora Mariangela nega tutto ovviamente Dice alla superiore che è da anni che quella storia va avanti Eva e i suoi genitori inventano continuamente calugne riferite a lei Ma in realtà si è sempre comportata benissimo La superiore a questo punto dice a sua Mariangela Guarda a me fa piacere che non ci sia nulla di scandaloso in questa storia Ma per cortesia tronca qualsiasi rapporto anche se decoroso con questa ragazza Perché qui è arrivata la polizia quindi la storia si sta facendo un po' troppo scoppiettante Passano pochi giorni ed Eva si presenta di nuovo in centrale di polizia per ritrattare tutto Dice che la storia in realtà con lei si è sempre comportata bene La colpa in realtà è sua Dice di essersi inventata tutto Nel frattempo la polizia in ogni caso nota che c'è qualcosa che non torna Non vede la situazione con chiarezza e vuole capire maggiormente cosa si cieli sotto questa storia Quindi si mettono in contatto con i genitori di Eva Quando la madre di Eva riceve la chiamata dai carabinieri La figlia è lì presente e capisce anche tutto Capisce perché i carabinieri stanno chiamando sua madre Quindi si mette a piangere, si mette in ginocchio Prega sua madre di non dire niente Eva dice a sua madre di aver fatto una cavolata Le chiede di dire alla polizia che sua Maria Angela si è sempre comportata più che bene con lei Inoltre Eva chiede a sua madre di non menzionare gli iscritti di quando era minorenne Giovanna a questo punto va dal carabinieri e minimizza tutto Ovviamente è convinta di non fare in nessun modo del male ad Eva È convinta che la storia con la suora si sia conclusa parecchio tempo prima Inoltre Eva telefona anche alla superiore di sua Maria Angela E di nuovo dice di essersi inventata tutto Ovviamente a tirare le fila della situazione è sua Maria Angela Che costringe Eva a ritrattare la sua confessione con chiunque Ecco perché Eva arriva a chiamare anche la superiore di sua Maria Angela Dai diari di Eva peraltro emerge il forte disagio che prova in quel periodo È disperata Infatti scrive Mi sono rassegnata forse perché non vedo via d'uscita Sono stufa di lei Stufa di difendermi e di fare incubi la notte Stufa di prenderle perché non voglio stare con lei In un'altra parte del diario del 25 marzo 2010 Eva scrive Ho precisato che non avrei dormito con lei e che non volevo che lei dormisse di sopra Così le ho preso un altro cuscino, altre coperte e le ho preparato il divano Si è naturalmente arrabbiata molto perché voleva che stessi almeno sul divano con lei Ho voluto darle fiducia e mi sono seduta all'altezza dei suoi piedi in fondo al divano Mi ho fatto male come al solito a fidarmi perché appena ho chiuso gli occhi ho sentito le sue mani addosso Non ho detto nulla ma mi sono alzata e sono andata sulla poltrona dove sta Cocco, il mio cagnolino Il sonno era passato al volo e sono rimasta lì seduta ad aspettare che arrivasse mattina Ha provato un paio di volte a convincermi con le buone a tornare sul divano ma chiaramente non mi sono più mossa Che schifo Eva a questo punto ha raggiunto una consapevolezza Sa che la relazione che ha avuto con la suora è sempre stata terribilmente sbagliata Tanto che a questo punto arriva a scrivere sul diario in data 25 marzo 2010 Che schifo quando la suora prova ad avere qualche approccio con lei C'è un altro messaggio che la suora manda a Eva Attenzione Si legge questo Provo una gelosia incontenibile Non ci deve essere nessuno più importante di me nella tua vita Sono matta, pazza, follemente innamorata di te Non posso rinunciare a te Mi piace il contatto con il tuo corpo La notte ti sogno sempre Non sono pensieri da suora Le suore non sono tutte così Credo Mi spiace del cattivo esempio che ti do su questo fronte So che non è giusto Ma sento che l'amore che provo per te è incontrollabile È l'amore che provo per te che mi spinge a fare un sacco di chilometri A scappare di notte per venirti a cercare So che non è giusto Ma non riesco a controllarmi A questo punto siamo nel 2011 Sor Mariangela fa violenza su Eva in almeno tre occasioni Ed Eva lo confessa a Don Alessandro La prima risale al mese di maggio La suora usa le chiavi per entrare in casa di Eva Si fa vedere e pretende di fare cose con lei Il secondo episodio avviene più o meno nello stesso periodo In quanto Eva si presenta all'oratorio con dei graffi molto marcati al collo Don Alessandro chiaramente chiede ad Eva se si è per caso procurata con i graffi da sola Ma la ragazza di nuovo dice che la colpa è di suora Mariangela Il terzo episodio risale sempre a maggio del 2011 Quindi tutto si concentra in un solo mese Quando Eva mostra a Don Alessandro delle lesioni alle caviglie Specificando che anche in quel caso è stata la suora ad immobilizzarla a letto Cristina Bevilacqua è una catechista dell'oratorio di Sant'Edoardo E racconta che l'ultimo incontro con Eva l'ha avuto intorno a Pasqua del 2011 La ragazza le ha detto Sai, io non ce la faccio proprio più Non riesco a trovare la mia strada Io non riesco a capire che cosa sono e che cosa voglio diventare Sto tentando tanti percorsi ma non riesco a trovare proprio il mio posto A questo punto prima di volgere al termine di questo triste caso Voglio parlarvi di Monica Guanzini Un'amica che Eva aveva conosciuto all'oratorio Nel periodo in cui era andata a vivere da sola Un giorno Monica, che anche lei è una collaboratrice Si reca in parrocchia Perché in casa è avvenuto un fatto che l'ha turbata E quindi vuole parlarne con Don Alessandro Mentre Monica si confida col Don Giunge Eva Di conseguenza le due si incontrano e si conoscono in questo modo Inizialmente Don Alessandro chiede a Monica Se vuole allontanarsi per parlare senza la presenza di Eva Ma Monica dice che non c'è problema Quindi continua a parlare con Don Alessandro anche davanti ad Eva A questo punto le due iniziano a parlare Monica si confida con Eva ulteriormente dopo l'incontro con Don Alessandro Tanto che Eva la invita a casa sua a bere un caffè Perché nota che il tempo passa ma Monica continua a rimanere turbata È così che quel tempo Monica si apre con Eva Ed Eva fa altrettanto con Monica Si apre anche lei Inizia anche lei a confidarsi Monica con Eva parla di violenze intime Ed è così che Eva trova il coraggio di aprirsi e di parlare Lo dice Anche lei è vittima di violenze Inizialmente però Eva non dice a Monica chi sia il o la sua carnefice Tanto che Monica crede sia una questione familiare Ossia crede che qualche parente abbia allungato le mani O peggio su Eva Eva si apre del tutto con Monica E le dice che si tratta di Suor Mariangela nel 2011 Ossia nel suo ultimo anno di vita Monica ricorda benissimo quel momento Dice che Eva è sfinita Ha gli occhi gonfi dal pianto Sembra sul punto di scoppiare Dice a Monica che è stanca Che non regge più Poi scoppia E le urla in faccia Tu non puoi immaginare chi sia È Mariangela Suor Mariangela A questo punto Monica si gela Non ha mai immaginato neanche per sbaglio Che Eva stesse vivendo una situazione simile a causa di una suora Eva confessa a Monica che se non si concede Riceve botte Insulti E ancora minacce Monica però a tratti si sente male ad ascoltare la storia di Eva Perché per lei è inconcepibile che una suora possa fare una cosa del genere Per di più è chiaro anche lei ha avuto un passato di violenze Anche se non certo sapere esattamente come, quando e perché Quindi diciamo che quando Eva cerca di spingersi un po' Oltre di entrare un po' nei particolari Monica le dice Non affermati Eva Io sto male Non ce la faccio a sentire queste cose Per favore Basta, basta, basta Inoltre Monica sottolinea quanto Maria Angela avesse presa su Eva Spesso Eva quando è all'oratorio riceve continue chiamate da sua Maria Angela Ma continuo è intese una al minuto Eva riesce anche a ricevere 50 telefonate consecutive Alla fine Eva alla 51esima volta risponde al telefono Sbianca e puntualmente sparisce per qualche giorno In un'altra occasione Monica racconta che Eva un giorno arriva all'oratorio Con il collo un po' piegato e una grande sciarpa Ed è dolorante infatti quando Monica fa per abbracciarla e salutarla Eva dice No no, non stringere così forte per favore Monica quindi chiede ad Eva cosa le sia successo Ed Eva risponde alla sua amica Sono caduta dalle scale Però questa volta ce l'ho fatta Ad andare via e a dire di no Arriviamo all'ultimo mese di vita di Eva È giugno del 2011 Ed Eva è distrutta, affranta Non ce la fa più Soffre sempre più spesso di attacchi di panico E poi ci sono anche le male lingue dell'oratorio a peggiorare la situazione Già, perché purtroppo tra i ragazzi dell'oratorio inizia a diffondersi la voce Che Eva e Don Alessandro stiano insieme Quando in realtà il Don corre spesso da Eva perché ci tiene a lei Sa quali siano le sue problematiche Ne conosce la gravità Quindi cerca di essere il più possibile presente per lei Però a causa di queste male lingue Don Alessandro a un certo punto decide di allontanarsi da Eva Le parla e le dice che date le circostanze È meglio evitare di vedersi nel privato così spesso Per di più c'è la possibilità che venga trasferito proprio a causa di queste male lingue A questo punto Eva si sente davvero persa Perché Don Alessandro è stato l'unico ad averle dato un serio aiuto È stato uno dei primi ad apprendere la gravità della situazione Che si celava dietro il rapporto tra Eva e sua Mariangela È la sera del 21 giugno Monica sta uscendo dalla palestra E riceve un messaggio da Don Alessandro Che le chiede di star vicino ad Eva perché è parecchio giù di morale Monica sa che Eva non sta bene Quindi la chiama immediatamente È all'entrata della palestra E vede la sua macchina che le passa di fronte Perché come al solito Eva sta tornando a casa dall'oratorio Monica ed Eva quindi decidono di incontrarsi Perché Monica sente Eva chiaramente agitata Quindi Monica le dice Eva metti giù il telefono Guida tranquilla Io ti seguo con la macchina Ci troviamo a casa tua E poi parliamo Le due quindi arrivano a casa di Eva Parcheggiano Monica scende dalla macchina E si ritrova davanti Un'Eva distrutta In lacrime È letteralmente disperata Quindi Monica tenta di calmarla La consola le dice che le crede Dice che sa che le sue confidenze Non sono assolutamente bugie In questo modo Monica riesce ad entrare in casa di Eva Eva che nel frattempo ha in mano una corda Che ha preso dall'oratorio E un computer Così Eva dice piangendo a Monica Mandano via Don Alessandro Va via Va via Ed è colpa mia Monica anche in questo caso cerca di tranquillizzarla Le dice che no Non è colpa sua Bensì colpa dei ragazzini dell'oratorio Che hanno iniziato a mettere in giro queste voci davvero assurde Monica le dice di non preoccuparsi Le dice che non c'è niente di ufficiale Poi evita Eva ad andare in casa sua E ad accoglierla Per parlarne insieme Mentre accade tutto ciò Il telefono di Eva non sta mai zitto La sua suoneria è diventata praticamente La colonna sonora della sua vita E a chiamare è sempre Suor Mariangela Eva però è stanca Appena entra in casa Tira fuori il telefono Lo guarda e poi lo lancia via È sfinita Non ce la fa più E di questo che Eva parla con la sua amica Monica Le racconta di quanto sia stanca Le dice che in realtà Quella suora le ha rovinato la vita Le dice che non ne può più Poi Eva dice delle frasi Alquanto ambigue a Monica Come ad esempio Adesso devi andare avanti tu Devi dire tu Chiero veramente Poi però Eva aggiunge Dai domani vai al mare Poi alla sera ci vediamo Parliamo e iniziamo tutto Monica quando sente quest'ultima frase Sente anche dentro di sé Un barlume di speranza Perché pensa che finalmente Eva Voglia sporgere denuncia E farla finita con questa storia Punendo quella che di fatto Fin dall'inizio È stata la sua carnefice Monica quindi continua a stare con Eva La rassicura Ma Eva di nuovo dice qualcosa di ambiguo Particolare Ossia aiuta i miei E anche Don Alessandro Monica non capisce Quindi dice Sì sì ma tranquilla Eva ascolta questa cosa La facciamo io e te Insieme Ed Eva pare sia convinta Ripeti sì sì E poi lo mima anche con la testa Quindi ad un certo punto Monica va via Torna a casa Anche perché ha dei figli Ed Eva Tutto sommato Le pare davvero sia più serena Monica ha già assistito Tante sue crisi Tante volte l'ha già vista In stati simili Quindi non si preoccupa In serata prova a contattarla nuovamente Non riceve risposta Ma anche in questo caso Non si allarma In quanto pensa che Eva Sia crollata a letto sfinita Così Monica Manda un messaggio a Don Alessandro Scrivendo Sono stata a casa di Eva Era molto in crisi Ma sono riuscita a tranquillizzarla Domani partiamo E denunciamo tutto Arriva il 22 giugno del 2011 Eva è solita Chiamare sua madre Tutte le mattine Intorno alle 9 Ma quella mattina Eva non chiama Sua madre è preoccupata Quindi prova a contattarla a sua volta Ma non riceve risposta La madre di Eva Giovanna a questo punto Chiama la vicina di casa di Eva Anche lei ha la coppia delle chiavi di casa di Eva Ma la prima cosa che chiede Giovanna È di controllare se per caso La macchina di sua figlia Si trova ancora nel cortile di casa sua La donna è ancora a letto E va in effetti alla finestra Per controllare se per caso C'è la macchina di Eva Nel cortile E la vede La macchina di Eva Effettivamente è lì Nel cortile di casa sua Giovanna quindi chiede alla vicina Di prendere le chiavi di casa di Eva E di andare a controllare La vicina quindi scende Fa per entrare a casa di Eva Ma trova la porta d'entrata spalancata Le chiavi a terra E la luce accesa La donna entra Inizia a chiamare Eva Ma A primo impatto non la vede Tutto sembra Normale Quella casa è in perfetto ordine Poi la vicina nota qualcosa con la coda dell'occhio Si gira E la vede A primo impatto le sembra che stia dormendo in piedi Quindi con questa assurda idea La vicina le va incontro La chiama e inizia a strattonarla Ma Eva Non dà segni di vita Giovanna la madre di Eva Nel frattempo è ancora al telefono Sta ascoltando tutto E ad un certo punto sente la vicina Che dice Oddio E adesso Che faccio Giovanna a questo punto ha già capito E quindi chiede alla vicina di Chiamare i soccorsi Ai carabinieri quindi arriva la segnalazione Di un avvenuto suicidio Mentre Giovanna corre A prendere la macchina Per raggiungere casa di Eva Che alla fine dista pochi chilometri Intanto chiama incessantemente Suo marito Roberto Che lavora in banca E purtroppo Come spesso accade Quella mattina tutti i telefoni Sono intasati Giovanna fortunatamente riesce a mettersi in contatto Con un collega Di lavoro Di Roberto E gli dice Vai subito da Roberto E digli che deve venire A casa di Eva Non mi deve richiamare Deve venire qui Il collega quindi raggiunge Roberto Che in quel momento È in riunione Nonostante ciò Lo chiama immediatamente E gli dice Roberto ascolta Devi andare a casa Di tua figlia Eva Anche Roberto Dal tono di voce Del suo collega Capisce che è successo Qualcosa di grave Chiede quindi ad un suo amico e cliente Cardiochirurgo Che fortunatamente in quel momento Si trova in banca Di accompagnarlo Roberto quindi si dirige a casa Della figlia Sia Col suo amico Cardiochirurgo Che col direttore Della banca Che di base Lo seguono Per aiutarlo Per supportarlo Non sanno cosa Se è successo veramente Ma cercano Quanto meno Di dargli un appoggio Quando Roberto Arriva a casa di Eva Trova una folla Di curiosi Che hanno chiaramente La faccia preoccupata Vede il personale medico E infine Vede la pattuglia Dei carabinieri Roberto non ci pensa Due volte Si precipita A casa di sua figlia Eva E trova purtroppo Sua figlia Legata ad una corda E' piccata Nel salotto Di casa sua Attorno a lei C'è il personale sanitario Che tenta di visitarla Stanno Misurando i parametri vitali Roberto quando vede la scena Non ci pensa due volte Si dirige Verso il personale sanitario Inizia a slegare la corda E poi dice O la tirate giù voi O lo faccio io Dal momento che è mia figlia Quando i carabinieri Entrano nell'abitazione Trovano la casa In perfetto ordine Eva Che purtroppo Non è più in vita Giace su un divanetto Le ore Nel frattempo passano E anche Le amiche di Eva Lo vengono a sapere Lo viene a sapere anche Don Alessandro Quando Monica Lo scopre E' sterrefatta Pensava davvero Che ci sarebbe stato Un nuovo inizio Ed era tornata a casa La sera prima Con una speranza in più Perché Monica Eva La voleva aiutare Era pronta a fare Tutto per lei Le voleva un bene Dell'anima I giorni passano Sono confusi I genitori di Eva Non ci credono Sono inevititi Stanchi Increduli E purtroppo Si ritrovano Suor Mariangela Che prega Che prega Agli occhi chiusi Finge che nessun altro Possa andare a visitare Eva Se non lei La sua mamma spirituale Giovanna Peraltro al processo Racconta anche Che al giorno dei morti Sono andati di buon mattino Al cimitero Sono stati lì Ad aspettare E la suore è rimasta lì A pregare Per tutta La mattinata Quindi i genitori di Eva Il giorno dei morti Non sono neanche riusciti Ad andare a trovare Al cimitero Loro figlia Dopo il suicidio di Eva Suor Mariangela Prova a mettersi contatto Con tutti i ragazzi Dell'oratorio Che conoscevano Eva E chiede loro spiegazioni Perché non capisce Come la sua bambina Possa aver fatto Quel gesto estremo Alla fine Tutti si ritrovano A consolarla Perché di base Suor Mariangela Si chiede perché Eva Non si sia confrontata Con lei Perché non le abbia detto nulla Pensate che Suor Mariangela Arriva addirittura A chiamare Giovanna La madre di Eva Si dispera anche con lei Tanto che alla fine È Giovanna La madre di Eva Che si ritrova a consolare La suora Così Giovanna a un certo punto Si arrende E va comunque Alla tomba della figlia Anche se C'è Perennemente Suor Mariangela Intanto Monica pensa Pensa alle ultime parole Che le ha detto Eva Prima di farla finita Adesso però Devi andare avanti tu Sei tu Che devi dire Chi ero veramente Monica non ci pensa due volte Va dai carabinieri Per denunciare tutto Spiga che conosce Sacconago Eva La ragazza morta Sua E' ritrovata in casa sua Il 22 giugno del 2011 Ed è così Che Monica Racconta Tutta la storia di Eva Racconta Come suor Mariangela Farsi entrata nella sua vita Quando aveva 14 anni Per rovinagliela Irrimediabilmente Fino a portarla A quel gesto estremo A questo punto Scattano le indagini E Dispongono Una perquisizione Domiciliare A casa di Eva Ed è qui Che si apre Il vaso di Pandora Gli incurrenti Scoprono 12 anni Di lettere Di bigliettini Di fax Di video Di diari segreti I tabulati telefonici Sono allarmanti Perché emerge Che suor Mariangela Chiamava Eva Perennemente In continuazione Riusciva anche Ad effettuare 100 chiamate al giorno Solo Ed esclusivamente Ad Eva Emerge in questo modo La verità di Eva Che credo sia la parte Più importante E emergono anni Di manipolazioni Di ricatti emotivi Chiaramente Suor Mariangela È colpevole Sia moralmente Che eticamente Di tutto ciò che ha fatto Il PM chiede una condanna Di 9 anni E 9 mesi Alla fine però Suor Mariangela Viene condannata 3 anni e 6 mesi Che poi si trasforma In un periodo Ai domiciliari E uno all'istituto Psichiatrico Castiglione Delle Stiviere Quanto meno Col secondo appello I giudici condannano L'ente delle consorelle Che in sede civile Dovrà risarciere La famiglia Sacconago Suor Mariangela A questo punto Viene sottoposta Per izia psichiatrica Ed emerge che Soffre di un disturbo Borderline Della personalità Che la rende Un soggetto pericoloso Non sono nessuno Per dire che questa Sia una pena corretta o meno Quindi quello che Esprimo È solo e soltanto La mia opinione Non mi permetto Di giudicare Perizie psichiatriche Perché Non è il mio campo Però a mio parere La pena che ho dovuto Scontare Suor Mariangela Non è minimamente Paragonabile Al danno Che ha creato Alla povera Eva E anche il miglior Risarcimento Da parte dell'ente Delle corsorelle Non riporterà mai In vita Io ho finto Di raccontarvi Questa storia E a questo punto Lascio a voi I commenti Perché sono molto Curiosa di sapere Cosa pensiate Di questo caso Io non ho altro Da aggiungere Quindi lascio a voi I commenti Mi raccomando Scrivete tutto quello Che volete qui sotto Detto ciò ragazze Ragazze Io vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo Al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi E continuate a mangiare Le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao ragazze